ciao a tutti e bentornati sul mio canale siamo tornati qui su wizard 101 allora chiedo scusa se si sentono rumori di sottofondo ma stanno usando il tosa erba e sinceramente per isolare rumore chiudermi le finestre beh capirete questo caldo è un po un suicidio allora io ho fatto per conto mio quella missione col boss alla fine l'ho fatta dopo la registrazione perché ho scoperto che se uscivo si annullava i salvataggi del dungeon mi ero scodato di questa cosa quindi potevo farlo anche in video volendo andiamo a miraggio quindi facciamo le prime missioni parliamo con bar baffo o cielo è un aspetto fantastico oggi la moda dei giovani ma che semplicemente sconvolgente portate un po di stile nel nostro piccolo mondo o fantastico prima ricompare il portale del mondo e poi arrivano dei visitatori tutti in tiro i mercanti nomadi ne sarebbero deliziati o meglio lo sarebbero se fossero qui a che tragedia non posso più leggere questa commedia chi vuoi prendere in giro bar baff chiunque può vedere la nostra vergogna guarda è così imbarazzante carovana dovrebbe essere una località commerciale variopinta e affollata invece una macchia nera sul nostro onore una zona morta mi si è attivata una missione di accademia pur a ma questo sta ancora a parla allora parla con sabbiago a miraggio c'è in carovana allora dove sei eccolo qua vabbè facciamo così che schippo tutti i dialoghi va se non siamo qui un'ora solo per leggerli ma perché mi ah eccolo qua mi si attivava sempre la missione di accademia porcellum strada occidentale prendiamo io non li butto mai perché possono sempre servire i stili agenti cioè non li lascio mai per terra anche il più misero diciamo può sempre servire per qualche cosa parla con cammellario dai famo prima schippiamo tutto configgi avvoltoio letale prendi osso ok il mazzo come sta allora leviamo questo leviamo questo direi di levare anche questi qui questo qui e direi che così è più che buono hai capito tu ora la frusta lascia anche una cura nel tempo buono andiamo potenzia 96 però quello mi ha lasciato il malus con l'attacco avrò tagliato direttamente all'attacco finale boom boom 679.3 uh un'altra frusta bravo altri 416 eh si l'hanno cambiata quindi prima non lo faceva avvoltoio altri due e devo prendere altri due ossi in realtà quindi potrebbe volerci anche di più andiamo di luciole va stavolta che è pure più forte del signore della tempesta intanto loro fanno i loro attacchi bam ehm 11.7 8.3 ma perchè toglie a chi toglie di più a chi toglie c'è 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 11k il crit e 8k liscio è vero che non c'è più il doppio questo potrebbe anche essere allora devo ancora prendere qua non ho preso manco un osso no uno solo però qua mi servirebbe una pozione c'è un po' di di vita arrivo a 4k almeno e mi ributto in duello tanto non dovrei morire vero e anche questi due crepano vediamo se avrò almeno raccolto un osso da questi qua sì raccolto quindi torniamo da cammellari chippiamo anche qui dai facciamo prima sali nel nido degli avvoltori letali quindi il primo dungeon ok ho un po' paura a vedere un solo boss questo mi sa mi sa che c'ha regole faccio il mazzo e vediamo un po' proviamo e vediamo magari è semplice di quanto io possa pensare 4.5 mi puzza un po' mi son messo tutte ste eh infatti strilla immaginavo troppo semplice dopo però dai se richiama solo gli sgherri è fattivo è comunque una potenza d'attacco tale che crepano tutti anche solo con una lame signore della tempestà devo mettermi pure in purifica allora più 45 ce l'ho ehm questo lo uso dopo ma mi metto prima un'altra lama su mi sa che rusalca me la potevo risparmiare però chi se li ricorda sti dungeon già li ho fatti col primo persona ma chi se li ricorda quindi non so prima metto il mazzo giustamente più previdente pensavo sa potessi avere 10 12 k tipo così metto anche un più 35 sperando che mi escano l'attacco multiplo se no che posso va sparo rusalca e il boss crepa almeno mi tocco il boss dalle balle che c'ha pure la pepita nera quindi attacchi che possono mazziarmi speriamo che si attivi corrente almeno oppure quella quella guarigione nel tempo lo vantasei non è tanto però sempre buono è recuperare continuare a recuperare vita allora io non mi l'amo subito ma uso questo per togliermi il meno 40 perché tecnicamente se che sta facendo no ha messo le ali che gli risorge quello no eh piuttroppo ah tutti praticamente vabbè a me interessa far fuori il boss questi qui cadono con un colpo del signore della della tempesta come si chiama mi tolgo sto brutto meno 40 allora posso farcela in teoria però mi devono uscire le carte se non mi esce l'attacco multiplo eh ad un altro malus e che palle allora facciamo finalmente questo la pepita nera ancora che non mi esce oh usiamo questo tanto dovrebbero crepare almeno gli sgherri sicuro non mi è allora non mi è avrei ogni Allora quindi li abbiamo distrutti e andiamo a parlare col cammellario e finiremo qui. Abbiamo fatto il primo dj pure, penso sia più che sufficiente. Ok quindi ritorno a piazza centrale ma per oggi è tutto, iscrivetevi al canale, cerchiamo di arrivare ai 600 iscritti possiamo farcela, lasciate un mi piace, attivate la campanella per non perdere i prossimi video, bye bye. Ciao. Ciao.